Ciao a tutti cari ragazzi, mi ho fatto una sorpresa speciale. Lo sapevate che per la vostra PS2 avevate Sly 1, 2 e 3? Ora questi 3 in 1 li troverete in questa bellissima trilogia di Sly Cooper, come vedete dalla nostra scritta The Sly Trilogy. Il videogioco che avevano lanciato nell'anno 2010 ha avuto un enorme successo, perché Sly Cooper è un prusciore che non era mai apparso nella PlayStation. E come vedete stiamo vedendo il furgone che sta avanzando e poi vediamo delle scene bellissime, tipo di Sly 1, ma stiamo vedendo Haiti, Isola di Ovrat, Mesa City e la Cina occidentale con Lune. Oh, ho dimenticato di dire anche Parigi. Allora c'è Parigi, Mesa City, Cina, Haiti, Isola di Ovrat nel Galles. Qui potete scegliere 3 giochi se volete guadagnare trofei di bronzo, d'argento, d'oro e di platino. Scegliete l'uno, il due e il tre, quello che vi piace di più. E poi non è tutto, ci sono anche dei minigiochi da fare, c'è da fare i minigiochi con questi colori, tipo Sly Cooper, Murray, Carmelita Fox e Bentley. Qui potete scegliere il numero di giocatori se volete fare con i vostri amici. E qui scegliete il personaggio e vi piace di più. Spero che questa mia spiegazione è finita ragazzi. Così ve lo ricorderete per sempre di Sly Trilogy, che ha tutte le immagini che i tre giochi sono stati restaurati con le tecnologie più innovative e poi è in HD alta qualità. Così è tutto fatto, completo, migliorato. E basta. Ok, per questa volta vi saluto. Se volete scegliere un gioco di questa trilogia fatelo pure, è lì che vi aspetto. Ciao.